Ora parliamo della festa di Sant'Agata. Antonio Presti, fotografi della Fondazione Fiumara d'Arte, raccontano la festa della Santa Patrona di Catania con un tributo ai volontari della protezione civile. Stamattina intanto è stato effettuato il collaudo sul Fercolo. La Santa, la festa, la folla e chi sta dietro le quinte, raramente inquadrato dalle videocamere e dalle macchine fotografiche di fedeli e curiosi nei giorni della processione, ma che con il proprio lavoro garantisce il buono svolgimento della festa. Così Antonio Presti e dieci fotografi scelti dalla Fondazione Fiumara d'Arte rendono omaggio a Sant'Agata e al lavoro degli oltre 700 volontari della protezione civile che nei giorni delle processioni agatine si mettono a disposizione dei cittadini, dei devoti e di quanti seguono il Fercolo. Decine di scatti raccolti durante i festeggiamenti dell'anno scorso che ritraggono le squadre logistiche e sanitarie a piedi o sulle ambulanze pronti a prestare assistenza a chi ne ha bisogno, da oggi pomeriggio fino al 5 febbraio saranno proiettati a Casa d'Arte Stesicorea e faranno parte del Museo Internazionale dell'Immagine al Librino. Dietro la grande festa di Sant'Agata c'è un popolo di giovani che proteggono la festa e proteggono i cittadini. Ecco, è proprio a questi giovani che io oggi mi rivolgo, a tutti i giovani della città, invitandoli a far parte sempre di più di quel mondo dell'associazionismo e del volontariato perché oggi parlare di volontariato è un impegno politico, sociale, civile che i giovani devono riconquistare nella coscienza.